Sì, non ho ben capito dove stiamo andando Se qualcuno cerca di scappare nel bosco Naturalmente si nasconderà nelle zone più remote, no? E adesso che stai facendo? Mi fermo e mi accendo un sigaro, ok? Forse non è chiaro, se tu butti un mozzicone a terra Se lui passasse di qui Non ci metterebbe niente a trovarci Non mi piace che quello mi dia degli ordini Beh, pensa che è lui che ci paga Però quando finiamo ricordami di bruciarlo vivo Wow Mi allontano un momento Dove vai? A pisciare E' proibito anche questo? Falla qua, previsco nessuno di lontani Mica siamo prossimi E fallo andare Alleluia Passami il borsone Sai quello che cazzo devi fare? Nessuno te lo tocca il tuo bambino Preferisco comunque averlo con me Se perdi solo uno di quegli oggetti contenuti in quella borsa Cosa? Niente, solo questo E' un piccolo avvertimento Cazzo! E' un piccolo avvertimento E' un piccolo avvertimento E' un piccolo avvertimento E' un piccolo avvertimento perché non ci hai invertito quando l'hai visto pensavo di farcelo ok pensavo di poterlo prendere io solo se fosse bastato un solo uomo non l'avrei chiamato voi brutto idiota non le permetto di fare così i miei uomini lei non ci aveva detto che era un cazzo di professionista e tu credi che lo sapevo ma meno male che non ha preso tutte le armi del borsone ma senza il mio cucine mi sento nudo tu mi hai fatto la stronzata e adesso ti ho accontato di un revolver mi chiedo perché non le abbia prese tutte poi per non appesantirsi no? ma come ragionate col culo? le ho detto che non le permetto non me ne frega un cazzo di quello che permetti o non permetti tu bisogna prenderlo questo stronzo non mi hai lotto il cazzo tu ma posa questa cazzo di pistola e fa quello per cui sei pagato posala prima prendiamo quell'altro poi risolviamo le nostre questioni personali ok questa è risolta però ora c'è una questione più importante sarebbe? chi cazzo è quell'uomo? io non sono tenuto a dirvi proprio un cazzo a vetri io vi pago e voi fate quello che io dico cazzo vuol dire? i rischi sono più grossi quelli previsti stamattina un mio uomo è morto è chiaro che questo qui è un fottuto professionista chi cazzo è questo? non so niente non so neanche come si chiama abbastanza assurda come risposta so solo che un testimone lo ha identificato come omicida e per questo omicidio lui dovrà pagare io non so niente del suo passato ma so che non avrà un futuro ma di che omicidio stiamo parlando? ho ucciso mio fratello non so niente del suo passato ma di che omicidio stiamo parlando? ma di che omicidio stiamo parlando? ma di che omicidio stiamo parlando?